Un nubifragio mai visto, la città allagata e colpita da frane, i torrenti che esondano e almeno sei morti. Sono questi, per il momento, i numeri della tragedia causata dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su Livorno. La situazione è drammatica, abbiamo chiesto e ottenuto lo stato di calamità. Livorno è stata colpita da un'onda di piena che ha colpito nella notte molte famiglie. La città è stata letteralmente devastata, ha detto il sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Ci sono grosse difficoltà, sono esondati alcuni corsi d'acqua. Noi avevamo uno stato di emergenza arancione, quello rosso era previsto in Liguria, quindi non eravamo in grado di prevedere quello che è successo, spiega il primo cittadino che ha partecipato alla riunione convocata dalla prefettura al centro coordinamento soccorso. È presto per fare un bilancio sul numero delle vittime, ha aggiunto, cinque sono quelle accertate, ma il numero purtroppo è destinato a salire. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno comunicato che fino a questo momento le vittime del nubifragio sono sei, un corpo è stato trovato in via della Fontanella nella zona di Monterotondo-Montenero, quattro sono stati trovati in via Nazzario-Sauro e fanno parte della stessa famiglia, rimasta intrappolata nello scantinato del palazzo. Risultano inoltre due dispersi, tra i quali una ragazza. L'intera città è completamente allagata dai 400 mm di pioggia caduti in poco più di quattro ore, 250 mm solo tra due e le quattro della notte. Si segnalano gravissimi danni e specie nella zona sud, con scantinati e strade invase dall'acqua e auto spazzate via.Punto la situazione più critica nei quartieri di Collinaia e Ardenza e Montenero, per l'esondazione di alcuni dei torrenti cittadini e il fango che ha invaso gli scantinati delle case. Gli abitanti del quartiere di Salviano sono stati sfollati, mentre a Quercianella nella zona della stazione si è registrata una frana che ha interessato la Aurelia.Punto a Livorno l'emergenza maltempo non è finita. Sono esondati alcuni torrenti, altri sono sorvegliati dalla protezione civile, ha spiegato su Twitter lo stesso sindaco Nogarin. Livorno è stata devastata dal maltempo come mai prima d'ora, ha aggiunto in un altro tweet.abbiamo chiesto lo stato di calamità. Cancelletto Livorno è stata devastata dal cancelletto maltempo come mai prima d'ora. Filippo Nogarin Chiocciola Nogarin, 10 settembre 2017 Il servizio urbano dei bus è stato interrotto per le condizioni della viabilità, sarà ripristinato a seconda del miglioramento della condizione di sicurezza. Anche i comuni limitrofi di Stagno e Colle Salvetti sono finiti sott'acqua con enormi disagi per la circolazione. All'altezza di Vicarello, spiegano i vigili del fuoco, è stata chiusa la superstrada Firenze Pisa-Livorno per allagamento. La stazione dei treni è inagibile dalle tre della notte scorsa perché allagate la linea ferroviaria tirrenica interrotta tra Pisa e Campiglia. I treni a lunga percorrenza sono deviati via a Firenze-Pisa, spiega Arfimino. Le squadre tecniche di rete ferroviaria italiana stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione ferroviaria. Situazione critica a causa del maltempo anche a Pisa e nei comuni della provincia. Alberi caduti e strade allagati nella zona di Marina di Pisa, dove per ora non ci sono persone coinvolte. Le forti precipitazioni si sono poi concentrate nella città della torre dove tutti i sottopassi sono stati chiusi e buona parte di questi bloccati con auto rimaste in panne. Intorno alle sei i vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti a San Giorgio per soccorrere quattro ragazze che erano rimasti in panne nel sottopasso allagato rifugiandosi sul tetto dell'auto.